Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo degli accessori per pirografia. Vediamo come è possibile inserire dei numeri, delle cifre, su un pirografo. Al posto della normale punta che viene utilizzata per scrivere con il pirografo, per decorare, per eseguire lavori di precisione, in questo caso inseriamo degli stampini. Dei numeri. Ecco questo è il pirografo, e qui abbiamo già inserito il numero 1. Normalmente le punte vengono posizionate sul pirografo attraverso un filetto, e in questo caso mettiamo su questi stampini. Poi quando il pirografo sarà caldo permetterà di stampare le nostre cifre su legno, e avere quell'effetto bruciato molto bello, solito della pirografia. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Se volete potete anche iscrivervi al nostro canale. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti